Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare il ricevitore FRSKY X4R al fret controller SP Racing F3. Collegheremo sia il segnale tramite SBUS che la telemetria. Come abbiamo visto nella recensione, l'SP Racing F3 non può essere alimentato direttamente da una batteria lipo, ma deve essere collegato tramite BEC A5V, useremo quindi una PDB. Adesso colleghiamo il ricevitore utilizzando questo cavetto GSD che ci viene fornito insieme al fret controller. Per il segnale SBUS abbiamo bisogno solo di questo connettore servo, quindi andiamo a rimuovere questi altri che non verranno utilizzati. Per rimuovere i fili che non ci servono utilizziamo una taglierina e tiriamo su questa linguetta di plastica, poi sfiliamo il filo, in questo modo. ecco fatto. colleghiamo il connettore servo nel canale dell'SBUS che è qua sotto, sono questi 3 pin qua, ricordandoci di mettere il cavo segnale verso il basso, i5V al centro e la terra verso l'alto. il connettore GSD andrà collegato nella porta IO2 facendo in modo che partendo dal basso ci sia il primo pin la terra, il secondo il 5V e il terzo il cavo segnale. collegando il ricevitore in questo modo andremo a utilizzare la porta UART3. quindi colleghiamo. ecco fatto. adesso prepariamo il cavetto per la telemetria che andrà collegato al nostro ricevitore. dei 4 fili presenti nel connettore ci servirà solo quello bianco, quindi rimuoviamo gli altri con l'aiuto di una taglierina. tiriamo su questa piccola parte in plastica e sfiliamo il filo, in questo modo. uno, tiriamo su, sfiliamo, due e l'ultimo. ecco fatto. rimuoviamo quindi questi fili perchè non ci servono. adesso ci è rimasto solo questo cavetto bianco, però lo dovremmo portare da tutto a sinistra a tutto a destra. quindi di nuovo tiriamo su la linguetta, sfiliamo il cavetto e lo rimettiamo tutto a destra. in questo modo, una volta collegato, andremo a utilizzare la smart port, che è appunto il canale dove viene trasmessa la telemetria. il risultato finale sarà questo. adesso colleghiamo il connettore della telemetria dell'X4R a questo cavetto JST che ci viene fornito insieme al flight controller. andiamo però prima a rimuovere i fili che non ci servono. prendiamo la taglierina e rimuoviamo i fili nero, rosso e giallo e lasceremo solo il filo verde. come al solito, tiriamo su e sfiliamo. uno due e tre adesso siamo pronti per fare la saldatura dopo aver prestagnato i fili mettiamo un termorestringente e siamo pronti per unirli. adesso riscaldiamo il termorestringente. ecco fatto visto che abbiamo utilizzato la porta UART3 per l'SBUS dovremo utilizzare un'altra porta per collegare la telemetria andremo quindi a collegarla in questo connettore JST posto qua sopra si tratta della porta UART2 siccome il nostro flight controller viene alimentato tramite BEC A5V per leggere il voltaggio della batteria dovremo fare il collegamento diretto tra il VCC della PDV al flight controller dovremo saldare quindi due cavetti che prendano il voltaggio diretto della batteria utilizzando per esempio i pad degli ESC dopo andremo a saldarli in questi due pad della PDV stando molto attenti a rispettare le polarità oppure se la vostra ha questo connettore qui potete utilizzare direttamente il cavetto che vi viene fornito insieme al flight controller e lo colleghiamo in ogni caso ricordiamoci di mettere il positivo verso l'alto e il negativo verso il basso adesso siamo pronti per collegare il flight controller al computer e procedere con la configurazione di Betaflight clicchiamo su connetti e andiamo su ports visto che abbiamo collegato la telemetria nella porta UART2 qui in telemetria output dovremo selezionare smart port visto che la telemetria dell'X4R passa appunto per smart port adesso attiviamo nella porta UART3 il serial RX dato che abbiamo collegato il nostro ricevitore seriale tramite SBUS nella porta UART3 quindi andiamo in save e reboot adesso clicchiamo su configurazione scendiamo verso il basso fino a trovare il tab del ricevitore qui dobbiamo selezionare serial buzzer receiver e ci dobbiamo assicurare che SBUS sia selezionato in questo menu qua sotto adesso attiviamo la telemetria scendiamo ancora verso il basso e in author features assicuriamoci che telemetri sia attivato scendiamo ancora fino a trovare il voltaggio della batteria e lo attiviamo quindi andiamo in save e reboot come notate qua sopra è comparso 11.2V ovvero il voltaggio della batteria che è collegata adesso alla PDB e manda il suo voltaggio al flight controller tramite il cavetto che abbiamo collegato prima adesso possiamo andare nel tab del radiocomando e provarlo muoviamo gli stick e vedete che rispondono se abbiamo creato delle switch possiamo anche provarle perfetto funziona tutto adesso possiamo anche disconnetterci e settare la telemetria nella nostra Taranis dopo aver collegato una batteria lipo alla PDB per alimentare il flight controller accendiamo la Taranis adesso dobbiamo settare la telemetria clicchiamo su menu e andiamo avanti fino alla pagina 11 che è appunto quella relativa alla telemetria una volta arrivati a pagina 11 giriamo la rotella fino a trovare il discovery new sensor quindi clicchiamo enter dopo qualche secondo possiamo cliccare stop discovery adesso ha trovato tutta una serie di sensori quello che ci interessa a noi è il VFAS il VFAS è fondamentale per sapere quanta carica ha ancora la nostra lipo e non rischiare di rimanere con la batteria scarica durante il volo Questo era il mio tutorial su come collegare il ricevitore X4R al flight controller SP Racing F3 Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace seconda 10 minuti 1 minuti 3 minuti 4 minuti 5 minuti 5 minuti kur 6 minuti